Mica c'è un'entrata qua, non l'avevo mai vista Sì C'è nessuno lì? Allora piazza, anche io c'è C'è nessuno lì? Ok C'è nessuno lì? Beh Ok L'ultimo estensione è rimasto in vita Scusate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Il contenitore di biorischio Difensori eliminati, missione d'attacco riuscita